40 dipendenti nell'immediato, oltre 100 a lungo termine, di cui 5 già assunti a tempo determinato, 300 milioni di bottiglie all'anno, un investimento nell'operazione di 30 milioni di euro. Questi numeri e gli obiettivi di Wild Water Ventures, che acquisendo i vecchi stabilimenti di Piuro, imbottiglierà acqua minerale con due marchi, lo storico Frisia e il rinnovato Bernina, che diventa St. Moritz e non a caso. Il prodotto infatti troverà collocazione, già dal prossimo inverno, nei migliori alberghi dell'Engadina, a illustrare il piano industriale questa mattina, il presidente della multinazionale, Édouard Lemarie, accompagnato dai vertici degli enti locali. Per St. Moritz e Frisia, grossomodo 30 milioni. Hanno firmato un accordo con il gruppo St. Moritz per un'esclusiva a livello mondiale e soprattutto di rifornimento degli hotel più esclusivi. Fra le altre cose, l'acqua della Val Chiavenna, con i nuovi brand, è sindora sponsor della Sagra dei Crotti, in programma il secondo fine settimana di settembre a Chiavenna. Dunque, fin da subito, collaborazione stretta dichiarata con il territorio, a maggior ragione con il comune di Piuro, che ospita gli stabilimenti, come sottolineato dal sindaco Omar Iacomella, che ha fatto gli onori di casa. Oggi siamo qui, finalmente, a dare il via ad una nuova stagione per l'acqua Frisia. E quindi direi che è veramente importante, sia dal punto di vista occupazionale, sia per quello che è un piano di sviluppo ambientale importante, che vede la bonifica dello stesso stabilimento e la creazione di una nuova realtà produttiva. Per noi questo è veramente importante e direi che abbiamo raggiunto un grande obiettivo insieme.